Su 167 i gassi alzati in du Capigurzo, o Nebio o a Balagna e chiamati ancogli case di l'Amerigane. Sii bastimenti maiò sono stati comandati da gorsi chi partuti per sti Amerighe a Nevatu vortuna. Ai XVIII e XIX secoli sono stati numerosi gorsi ad andare in cerca di un eldorado in America sottana, soprattutto capigurzini, marinari di tradizioni, al contrario degli altri gorsi. Era accadionata questa migrazione da ragioni economiche e politiche. Alla prima, la francesata vulsuta da Nabulio, poi dalla monarchia francesa, provocò l'isile dei partitenti di Pasqual Paoli e di un partito detto inglese. In secondo, da 1815 a 1836, un brevetto attirò una monza di immigrati in Puerto Rico. Il tuo brevetto reale rappresentava vantaggi economiche per cui gli scegliano di stabilisciarsi in digolini spagnoli. Rispondendo alla chiamata di parenti di Diasopralogo, da francassi da un servizio militare obbligatorio, con ragioni politiche da cambiare vita o da circa fortuna, pareti milaie di gorsi migroni. Si può contare 15% di gorsi in la popolazione portoricana in un 1815, ma è un abitante 92 che è corso tra il 1871 e il 1900. Se da una scelta distabilisciasi per esempio in Puerto Rico certe famiglie, altri vultoni in paesi, fendosi alzà casi magnifichi, simboli di a sua riesceda. E così, per i vammili capì gorsini, cagninacci, Michelangeli o Medori. So quanto c'è pochi gorsi vultati, fendosi conoscere la ricchezza nuova con l'alziera di questi palazzi, a spesso non c'è un po' giù, da affermare a supra nasoia non c'è gorsi firmati in paesi. Petrusanto Vioni, pare indetto, è figlio di lavorador di Zisco. Tocchi su sedici anni, si imbarca verso Puerto Rico. Ci si marita con una jovana portoricana di una famiglia di giolucali, po' faccia su fortuna e l'industria di agana zuccaro. Compando nanta su isola di Caraibi, manda di modrigo la risolta in paesi, da farsi alzà una gasa, com'è da Zuniawa. Dici che deve tenere una gasa in paesi, in caso di ritorno, ma aveva indetto qui una volontà di vindicanza sociale in un luogo dove è da conosciuta la miseria. Vinticinque anni di travaglio sono necessari da fare questo gasone di tipo italiano in un parco di quattro ettari con una tamanta vista in un mare. Sti gasi, con tetti a quattracchi, indiettenti che non bisognerà un apiccio so chiamati palazzi dai paesani. Ti stimunèdiani di una riescita individuale. Invece che i gasigorsi di famiglia sono rustici con un piano per generazioni, qui i palazzi sono alla prima luoghi di vita piacenti, fatti all'uso di Enuesi o Toscano, con culoni, arcatori, terrazzoli e arbori azottici posti all'intorno. Uno di sti palazzi è in traccia di un labello di monumento storico. È stato rifatto coi sforzi di un copio che si compra nel 2003 quando è da Cascavo in ruina. Un'altra facciata è scritta a dati di azocostruzione, 1869. Dopo i più di 150 anni, sto palazzi di quasi 900 metri quadrati supranedi un capigurzo cuo un interno lussuoso di 30 pezzi e uso scaloni centrali. Un'altra casa conosce un'altra sorta. Conta la storia di una famiglia capigurzina andata anche da Cercavortuna a Venezuelà e fendosi ricchi in dipiantazione e domini di la salute. Il prima vigliolo, voltato in paese, la fece alza. Oggi abbandonata, sacchidiata, conta la raffalata di questa famiglia di Ruliano, un affare conosciuto, di successioni, con pareti proprietari che si pone acconciata dietro. Ma questi palazzi sono testimoni di una presenza al di là dell'Atlantico e di noi di un passato prestigioso. In 2008, l'Università di Gorsica con l'Università di Puerto Rico organizzavano una scuola di Stati non tal tema di studi patrimoniali. Studiavano i gasi dell'Americano, poi presentavano le conclusioni di una mostra. A tempi in Puerto Rico, la scuola d'architettura dell'Università sviluppò un programma di studio di conservazione. Una buona per ricordi di questi famigli esiliati che hanno sempre rivolzuto in Montana, un'alleja che è un paese inattivo. Grazie. 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 Grazie.